Gela è stata scelta dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile tra le poche città isolane in cui si svolge una esercitazione con simulazione di rischio incendi. L'attività si è tenuta nel primo istituto comprensivo ad Albani Rocella e ha concluso il progetto Scuola Multimediale di Protezione Civile. All'appuntamento di oggi erano presenti tutti gli attori operativi coinvolti, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia Forestale e Protezione Civile. I ragazzi sono stati seguiti nel corso dell'anno per imparare a familiarizzare con tutte le figure istituzionali che sono preposte al soccorso. Oggi è la giornata conclusiva per cui i ragazzi e quindi tutta la scolaresca avrà la possibilità di conoscere direttamente e quindi concretamente a livello umano perché finora lo hanno fatto a livello teorico con chi li ha seguiti ma adesso avranno modo di conoscere realmente da vicino tutte quelle persone che sono preposte al soccorso. E quindi è un modo per far avvicinare i ragazzi a queste figure, a non percepirle e a non associare necessariamente al pericolo in senso negativo ma a far capire loro che si tratta di figure che sono dalla nostra parte e che sono dalla parte dei cittadini sempre. E il loro approccio invece come è stato? Hanno fatto delle domande? Come hanno accolto il progetto, l'iniziativa e la giornata? Sì, i ragazzi hanno accolto benissimo il progetto e devo dire è stata un'occasione come dicevo poco fa per superare le titubanze e la preoccupazione perché quando si parla di Croce Rossa, di protezione civile si pensa subito alle grandi calamità, agli eventi e in genere si spera sempre che ciò non accada mai a noi e quindi si pensa alle immagini televisive con grande tristezza. Questo è stato un modo per dire che comunque gli enti ci sono, che il cittadino può rivolgersi a loro sempre e quindi è bene conoscere cosa ruota attorno al mondo dell'aiuto e della protezione. Oggi è un momento in cui tutti i componenti del sistema di protezione civile partecipano a questa attività il club del soccorso alpino, le vigili del fuoco, la Croce Rossa, 118, le forze dell'ordine. Ognuno parteciperà a questo evento facendo vedere come si attiva il proprio sistema, come funziona e quali sono gli aspetti fondamentali di ogni ente che partecipa a questa manifestazione. Dopo una fase iniziale dove i vigili del fuoco, la forestale e il soccorso alpino fanno vedere alcune simulazioni di soccorso i ragazzi verranno portati nella zona centrale cosiddetta isole dove sono sei gazebi e dove ogni ente per dieci minuti dimostrerà e farà vedere praticamente qualcosa di importante ai ragazzi. Dopo di che i ragazzi ruoteranno negli altri gazebi in modo da avere una formazione completa.